Troppo bello Ehm Perchè oggi bisogna fare un po' più interessante Ehm Perchè oggi come ti fa la mozione della giovola? A Sesino ha fatto il parello Ho fatto un salto Ho fatto un salto Ehm 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 D Salve Non c'è solo un freno E olha vai vai ce ne sono di... Ho ya! la catena? c'era qua o? c'era qua ma cosa stupia c'era qua ma cosa stupia c'era qua c'era qua c'era qua c'era qua c'era qua se vuoi che si entra piano piano sta lì e scendela c'era qua il errore ti vuoi andare qui e saltarla eh sì fidatevi saltarla saltarla questa non minzica non ho preso di ballona o che è? non ho preso di ballona o che è? ma si è tutta la scuola va a scudine dov'è? alerio altra a i mi 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 non che che l'idea qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bello, bello. Così mi perdo quando è tutta... Che devi fare il cross? Voi si commerciano? Dai, basco. Dai, ti viva. Vedo che sto film. Via. Questa è stata caratteristica da tutto il connesso. Ah, è quello l'ascente. Grazie a tutti. Dove sei andato? Dove sei andato? Ah? Dove sei andato? Oh! Oh! Bello! Elastico! Questo è... E io vado, voglio provare... Andiamo, vai! E qui... Vai bene! Guardalo! Guardalo! Ok! Ok! E tu? 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 Beh... Sono타�biato io con il suo Verse 2 Ah beh, beh